I ragazzi hanno dato il massimo, diciamo come sempre hanno dato il massimo, le altre partite la fortuna non ci ha assistito, adesso sono riusciti a esprimere le loro qualità e il risultato è venuto. Sono molto contento perché abbiamo inserito anche dei giovani che prossimo anno sicuramente faranno parte della rosa e ci fa piacere anche che uno di loro ha segnato quindi l'ultimo gol. Sono molto contento perché sono ragazzi molto molto giovani, hanno grosse possibilità insomma in futuro. Il discorso è questo, bisogna sempre affiancare giovani a persone di esperienza, persone che hanno fatto già campionato di livello, quindi il prossimo anno la squadra sarà un mix comunque fra giovani di talento, comunque giovani che possono garantirci diciamo un certo livello di gioco, noi puntiamo sempre comunque ai primi posti, poi alla fine il payoff, siamo a un soffio, insomma siamo veramente a un soffio, mancano due punti penso dalla quarta, quindi noi la prossima andiamo a vincerla, cerchiamo di vincerla e vediamo quello che succede insomma.